Apple Watch Ultra 2 Oggi facciamo un piccolo fuoritema sul mio canale YouTube per parlare di un prodotto che ho acquistato qualche mese fa e mi sento di dare anche io la mia opinione qui sul mio canale Molti seguono i miei video per prodotti correlati al tema del denaro ma oggi facciamo un piccolo approfondimento anche su un oggetto di grande tecnologia come l'Apple Watch Ultra 2 Se questa è la prima volta che vedi uno dei miei video qui sul mio canale lascia che io mi presenti Mi chiamo Shiro Muto, mi occupo di finanza personale, management e crescita personale All'interno del mio sito ufficiale trovi tutte le informazioni sui miei argomenti e su prodotti e servizi Oltremodo qui sotto in descrizione c'è un link che ti consente di iscriverti al mio canale YouTube Entriamo subito nel vivo dell'argomento di oggi Ti presento quello che è l'Apple Watch Ultra Quindi di ultima generazione 2 Si presenta, spero che la luce non ci tradisca In modo molto simile alla versione precedente Che è per l'appunto l'Apple Watch Ultra normale Quindi l'uno Il cinturino è davvero molto molto comodo Perché, ecco, purtroppo ci sono problemi di luce Presenta questa fascia a strappo che a mio avviso è davvero molto comoda E ti consente, ecco, di indossarlo in modo molto semplice e allo stesso tempo è molto saldo Quindi io lo utilizzo anche quando vado in moto E vi posso assicurare che una volta, diciamo, impostata la lunghezza corretta al polso diventa impossibile toglierlo Ho scelto questo qua perché non faccio sport estremi Dunque si adatta molto bene alla quotidianità Quindi lo puoi indossare tutti i giorni E poi, diciamo, che richiama molto anche i colori che si trovano direttamente sulla cassa Ovviamente ci sono tantissimi cinturini disponibili Ufficiali e non ufficiali dell'Apple Watch Ultra 2 Ce ne sono, penso, al massimo 5 o 6 Perché si differenziano in tre tipologie E vanno scelti, ecco, in base all'utilizzo Che dobbiamo, come dire, fare dell'Apple Watch Come nella versione precedente Questo qui è una cassa in titanio Dunque garantisce una grande robustezza e resistenza ai graffi Io, insomma, vengo da un Apple Watch normale Quindi il mio vecchio modello era un Apple Watch Quello con la cassa in alluminio però grande Quindi nella versione da 45 mm E ho deciso, diciamo, di passare all'Apple Watch Ultra 2 Nel mio caso specifico soltanto per la durata della batteria Non vi consiglio di fare la stessa cosa Se questo è l'unico motivo per fare l'upgrade Però Quello che Ottieni, diciamo, facendo il passaggio in un Apple Watch Ultra Oltre alla batteria che è ampiamente migliore Rispetto all'Apple Watch normale Otterrai anche, come detto in precedenza Una resistenza in più ai graffi sulla cassa Cosa non da poco Perché comunque Indossando l'Apple Watch sul polso Succede un giorno sì E l'altro anche Che questo finisce contro qualcosa Quindi Anche se metti molta attenzione L'Apple Watch è uno di quegli oggetti Indossabili Purtroppo, per fortuna Che tendono a rompersi molto facilmente Infatti io Ne ho rotti tanti Di Apple Watch normali Credo di averne rotti almeno tre E quando l'Apple Watch si rompe Specialmente se non hai la garanzia Quella, diciamo, per la copertura sui danni Molto spesso non vale la pena Ripararlo Perché il costo della riparazione Va a comparare quasi l'acquisto di un Apple Watch nuovo Considera che ti danno anche il cinturino Quando lo compri nuovo Ti danno il carico a batterie No, forse adesso neanche più il carico a batterie Però ti danno il cavo Quindi Non vale la pena, diciamo, ripararlo Lo salvo che tu non hai attivo Attiva una garanzia in più Che ti copre anche dai danni Ecco, con l'Apple Watch Ultra 2 In questo caso Abbiamo anche la possibilità di evitare Che si rompa con la stessa facilità Con cui succede sull'Apple Watch normale Questo ha sicuramente un vetro Che è in cristallo di zaffiro Resiste molto bene ai graffi Dunque non ho applicato nessuna pellicola Però anche se approfondisci online Ti rendi conto che questo Invece di graffiarsi Si distrugge direttamente Si urta con qualcosa di, diciamo, pungente Quali sono le migliorie? Che differenze ci sono con gli altri Apple Watch? Sicuramente qui hai dei sensori molto più precisi Un GPS più affidabile Questo offre la sirena come sul modello precedente Infatti potrai personalizzare questo tasto azione Che ti consente di entrare nel vivo di una funzione Che puoi scegliere in maniera autonoma Io ho preferito impostare torna sui miei passi Questo perché spesso mi capita di voler fare un percorso Magari e tornare indietro E l'ho utilizzata anche come funzione di prova Ma lo puoi anche impostare come torcia Che è una cosa molto comoda Infatti utilizzerai, schiacciando questo Puoi far partire la torcia E magari in un momento dove c'è poca luce Questo ti dà una grande mano Che altro aggiungere di non scontato in questa recensione Che secondo me Questo è un acquisto che vale la pena fare Se hai sicuramente un po' di disponibilità in più E vuoi investire in un orologio Che sia più resistente Affidabile Con una durata di batteria in più Perché comunque caricarlo tutti i giorni Almeno nel mio caso era diventata veramente una noia Spesso mi capitava di uscire con l'orologio scarico Cosa che con l'Apple Watch Ultra 2 Non succede Perché la batteria dura almeno 3 giorni con un uso normale Nel mio caso sono riuscito ad utilizzarlo addirittura fino a 5 giorni Se si ha l'accortenza di spegnerlo Quando si arriva a casa e lo si toglie dal polso Quindi diciamo che i vantaggi principali sono piuttosto questi Ovviamente ci sono tantissime funzioni di allenamento Trovi tutte le funzioni che ci sono anche negli altri Apple Watch Ti lascio qua sotto il link Se vuoi dare un'occhiata alla promozione attuale che c'è su Amazon Puoi anche dilazionare l'acquisto in 5 rate senza interessi Oppure qua sotto sempre trovi anche il nostro recapito aziendale Whatsapp Dove puoi richiederci e con preventivo Magari ho informazioni su come si può acquistare un oggetto di questo tipo Anche dilazionandolo a rate Che altro aggiungere? Il display è davvero molto grande E per la prima volta diciamo se vieni da un Apple Watch normale Ti trovi con un display piatto Quindi non più con quella bombatura Che può piacere come non può piacere Nel mio caso io lo preferisco perché essendo piatto Quando indossi qualsiasi abito lo devi passare diciamo Tra gli abiti questo è più comodo perché è piatto Quindi diciamo che ha questa comodità in più Però è anche più gradevole esteticamente Un altro fattore non di poca importanza È la luminosità del display Perché su questo è davvero molto netta la differenza Se non erro arriva a 2000 nit di luminosità Quando si è all'esterno Quindi con il sole che punta direttamente sul display Ti assicuro che si vede molto molto bene E niente È un acquisto che può essere considerato un vezzo Se vogliamo passare ad un Apple Watch di questa categoria Se non si hanno le esigenze di questa specifica categoria Perché è un ultra Oppure può essere necessario Laddove tu sei una persona che pratica comunque Dello sport E che magari si reca spesso in montagna E ha necessità ecco anche di un'altitudine maggiore Insomma ha delle funzioni veramente Molto approfondite e utili Specialmente se si fanno sport Particolari Ma per tutte queste informazioni Ti rimando direttamente al sito ufficiale Che comunque ti offre nel dettaglio Tutte le compatibilità anche con i vari accessori Del caso Che dire questa recensione Spero possa esserti stata di aiuto Mi sento di aggiungere che ti consiglio anche la garanzia Forse supplementare sull'Apple Watch Perché dovessi guardarmi alle spalle Nel senso che dovessi guardare a quello che ho combinato in passato Con questo dispositivo Forse con una copertura Tanti orologi li avrei salvati Invece mi trovo Con un Apple Watch Che oggi è con la garanzia Ma i vecchi li ho distrutti Quindi Niente questo Lasciami anche il tuo parere Se hai già uno di questi oggetti E pensi di fare l'upgrade Dimmi cosa ne pensi Lasciami un commento Sono curioso di sapere anche il tuo parere Con questo è tutto Se il video ti è sembrato interessante Schiaccia like Iscriviti al canale Che siamo sempre tanti O pochi A seconda di quale creator sta facendo il video E niente con questo è tutto E ti saluto di nuovo Ciao Ci becchiamo nel prossimo video